Ciao, ciao, amostè, benvenuti o bentornati su questo canale ASMR, io sono Shanti, o più semplicemente chiara? Da quanto tempo? Ben ritrovati, ciao carissimi, so di essere un po' sparita nell'ultimo periodo e sono qui oggi per raccontarvi il perché fondamentalmente, per raccontarvi quello che sta succedendo nella mia vita, perché ci sono un po' di cose importanti che stanno accadendo ed io sono un po' emozionata, devo dire la verità, in premis perché non registro da tanto, e poi proprio per la novità, ecco, che vedrò a brevissimo perché non mi piace venire eccessivamente sulle spine, cioè odio chi lo fa, quindi giuro che non tarderò molto a arrivare all'acciccio del discorso, faccio solo una piccola premessa, un po' io anzi, la prima è che la luce oggi è terrificante, mi dispiace un sacco ma riesco a registrare in questo momento e poi non so quando riuscirò di nuovo, e ho cambiato stanza dalla mia abituale, non riesco a chiudere le persiane, quindi in questo momento c'è ancora luce fuori, c'è questo bianco ospedale orrento che non riesco a eliminare, cercherò magari in fase di editi di abbassare un po' le luci, però ecco, mi dispiace, sicuramente non sarà un video piacevole a livello fisico, ma potete chiudere gli occhi, ascoltarmi mentre mi prendete un vostro momento di relax, che sia per cercare di addormentarmi oppure durante un reposino pomeridiano o anche mentre state facendo altro, quindi non c'è bisogno di guardarmi, e nulla, che dire, allora, per prima cosa in realtà questo è come sempre un periodo molto impegnato per me a livello lavorativo, ho qui con me tra l'altro questo, un dinosauro, cos'è? Un dinosauro? Vabbè, noi lo utilizzeremo per fare qualche suono un po' tipo squishy, è un periodo molto impegnativo lavorativamente parlando, se mi seguite da qualche anno sapete che questo è sempre un periodo in cui io un po' sparisco, perché è il club, diciamo, del mio lavoro, e siccome avevo lasciato un box domande su Instagram in cui avevo accennato che avrei, diciamo, raccontato questa cosa che sta succedendo, alcuni di voi mi hanno chiesto che avessi cambiato lavoro, e no, lavoro ancora, faccio sempre il mio solito lavoro, e al resto delle domande risponderò in un video a parte probabilmente, oggi lo dedico alle viagghiere, ma c'è una grande 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 grandissimo cambiamento in atto, e anche qui se mi seguite da un po' sapete quando io fossi alla ricerca di un cambiamento da tanto tempo, più che alla ricerca forse sentivo che c'era qualcosa che doveva arrivare, che doveva cambiare ma tardava, tardava, tardava ad arrivare il momento dell'asvolta e amici cari, io penso che sia arrivato, è arrivato finalmente questo tanto atteso cambiamento perché mi sto per trasferire in Inghilterra andrò a vivere a Londra insieme al mio amoroso e tutto nasce in realtà da un suo cambiamento, nel senso che si deve trasferire a Londra per lavoro ed io ho colto la palla a palzo e ho deciso di seguirlo e sono davvero elettrizzata manca pochissimo ormai perché io partirò a metà maggio e il mio amoroso invece è già partito da qualche settimana io appunto avevo bisogno di terminare alcune cose a lavoro e continuerò comunque a svolgere il mio lavoro da là perché comunque sarà un trasferimento temporaneo nel senso che dovrebbe essere per circa un anno, un anno e mezzo o qualcosa del genere e poi torniamo ma per me è comunque una cosa enorme, incredibile e sono davvero felice emozionata un po' a tratti agitata ma è un'agitazione positiva perché, non so, è un po' non voglio neanche chiamarla aspettativa perché sto cercando di di non averne, di tenere la mente aperta di vedere un po' che cosa viene fuori però però sono sicuramente molto contenta mi piacerebbe poter organizzare un sacco di cose relative a questo trasferimento ma sono in alto mare molte di queste cose non dipendono da me quindi sono in trepidazione non so, non so come altro dire è nulla quindi fondamentalmente questo è non scendo troppo nei dettagli ancora perché è tutto molto in fase di evoluzione ma è nulla se, anche qui sono sicura in video passaggi di aver raccontato un po' il mio amore per l'Eghilterra per la lingua in primis e poi anche proprio un po' per la così l'atmosfera e anche se non mi sento eccessivamente un ragazzo di città cioè non so quanto io posso stare bene in una grande 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 città però sicuramente sono molto curiosa di questo cambio di scenario e è incredibile perché da quando ho saputo questa cosa e ho capito che comunque stava andando sempre di più a concretizzarsi mi sono davvero riappacificata con il mondo a livello lavorativo a livello personale di amicizie di tempo libero qualsiasi cosa mi sono proprio calmata mentre prima ero quasi sempre un po' alla ricerca spasmodica di quindi non lo so di qualcosa e invece proprio mi sono tranquillizzata un sacco perché sapevo che c'era questa cosa che 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 mi stava aspettando che mi stava aspettando nel prossimo futuro e e ho davvero tantissima curiosità tantissima voglia di mettermi in gioco di cambiare scenario di adattarmi anche a nuove condizioni anche solo lavorativamente parlando il fatto che comunque non sono in ufficio ma lavorerò da casa e anche cose stupide come non prendere la macchina per andare a fare la spesa per esempio ma che ne so prendere i mezzi perché è una cosa che nella mia città non non faccio nel senso ognuno di noi qui è veramente molto abituato ad utilizzare ad utilizzare proprio mangio e invece tra i pensieri stupidi che faccio c'è anche quello di dover andare a fare la spesa in autobus per esempio oppure dover arrivare alla metropolitana e chiedermi come fare con condizioni medievale eventuali e ripeto sono tutte cose che a cui io non sono abituata perché vivo in una piccola cittadina e invece appunto dovrò abituarmi a fare queste cose insieme a tante altre però sicuramente il mio atteggiamento è super positivo a riguardo a me piace tanto potermi potermi mettere in gioco poter un po' a volte anche stravolgere la mia vita senza andare a toccare quelli che sono però condizionati gli affetti la famiglia eccetera 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 e poi sicuramente sono molto tranquilla anche perché so che sarà una cosa temporanea non c'è l'incognita del potenzialmente per sempre no? comunque so che che si torna a casa e quello sicuramente è in programma e quindi è proprio un momento uno spazio che mi posso ritagliare per fare qualcosa di diverso per scoprire magari qualcos'altro di me io ovviamente quando parlo poi mi dimentico di fare qualsiasi altra cosa non so se si sente il suono di questa cosa e nei piani comunque c'è assolutamente anche quello di dedicare quanto più tempo possibile a youtube perché mi mancate mi manca fare video mi manca comunque esprimere la mia creatività e adesso in realtà appunto ho proprio poco tempo a disposizione e quando ce l'ho comunque sono molto stanca ma tornerò perciò aspettatemi e anzi anche qui ci sarà un cambio di scenario e conto comunque che mi vengono tante nuove idee spero dovrò dovrò sicuramente organizzarmi bene con l'attrezzatura dovrò fare qualche investimento ma lo faccio volentieri mi sistemerò piano piano io credo che ci sia un fastidiosissimo rumore di sottofondo perdonatemi che scatole che scatole e che altro non ho tanto altro da dire al momento appunto perché ancora è così tutto volto nella mia testa c'è poco di dichiaro, di organizzato stiamo cercando la casa per il momento Filo è in un Airbnb lì e io ogni tanto mi sto informando tipo sugli spettacoli, concerti non mi sembra vero soprattutto dal punto di vista teatrale che sia proso, che sia musical mi vorrei proprio dedicare a a questa parte di intrattenimento che mi piace un sacco e sicuramente Londra offre molte più opportunità rispetto alla mia piccola città e nulla l'unica altra cosa che ha senso raccontarvi perché poi per il resto veramente sono solo casa lavoro casa lavoro in questo periodo è che sto leggendo tantissimo perché sono comunque un po' agitata per il lavoro per questa questo trasferimento in atto e quindi per distrarmi mi piondo su libri, su storie veramente poco impegnate e impegnative sono diventata una bimba del bootog perché sto leggendo tutta la roba che consigliano lì sopra quello quelli che diciamo vengono definiti letture un po' trash anche se è brutto parlare di trash perché poveri libri cioè comunque la storia la raccontano ed io sono d'accordissimo con una mia carissima amica che dice che non bisogna per forza leggere sempre titoli di alto rango elitari cioè a volte semplicemente si legge per per distrarsi per immergersi in un mondo che non sia al proprio e e quindi va bene nel mentre che leggo mi rendo conto di tante brutture lo stile magari non è sempre dei migliori ma comunque ad esempio domenica scorsa oggi è il 25 aprile tra le altre cose e se riesco questo video lo pubblicherò stasera penso ma domenica scorsa avevo un po' molto questo senso di agitazione ho letto tutto il giorno e quando dico tutto il giorno intendo tutto il giorno mi sono svegliata alle 9 e ho letto fino all'una di fino all'orario di pranzo ho mangiato dopo ho mangiato mi sono rimessa a leggere e ho letto fino alle 7 di sera poi sono andata a fare la spesa perché non avevo niente in prego e sono tornata a casa mi sono fatta da mangiare e poi ho letto fino all'una di notte e non me ne sono accorta che era l'una di notte e ho finito il libro avevo iniziato venerdì sera e l'ho finito l'ho finito in una giornata praticamente e ho letto Game of Gods anche qui merita il premio Nobel per la letteratura sicuramente no però bella storia carina anche se appunto ho letto veramente tutta la roba che consigliano su booktok a Kotar fourth wing e dance with us cioè sto leggendo veramente di tutto di quella della categoria booktok chiamiamola così e mi sto divertendo sicuramente e non so mi piacerebbe magari parlarne in un video futuro anche se qui su youtube c'è un ragazzo che seguo che mi piace tantissimo non mi ricordo assolutamente come si chiama non lo so vabbè ci guardo e poi ve lo scrivo qua sotto ma lei fa questa questa serie di video non è smr che si chiamano libri di melma in cui racconta questi libri libri trash e ad esempio a Kotar l'avevo sempre sentito nominare da video tiktoker vari ed eventuali lei ha fatto questo video dedicato e dopo aver sentito la storia e la sua recensione che va a morire dal ridere l'ho comunque voluto leggere con lei in mente però mentre lo leggevo e quindi sicuramente magari se farò un video a riguardo vorrò fare un po' il cacciara per divertirci un po' e nulla l'ultima cosa che dico proprio a cavolo di cane è che appunto siccome mi sono ossessionata abbastanza con tiktok da un po' di tempo a questa parte ho pubblicato il mio primo video su tiktok se volete andarmi a seguire non ho idea di come vorrò gestire il mio tiktok probabilmente a cavolo di cane ad esempio adesso ho pubblicato questo video cantato con un'interpretazione di di Ocean Eyes di Billie Eilish però cambiando le parole relative a fourth wing questo libro che è abbastanza famoso così a caso perché ce l'avevo in mente ho detto massima e perché no quindi non non ho un piano particolare per il tiktok però comunque magari ogni tanto pubblicherò qualcosa anche lì perché mi diverte mi piace molto come piattaforma ci ho messo un po' me la sono studiata me la sono guardata bene ora che ho addomesticato la mia for you page sono molto soddisfatta perché comunque io guardo un sacco di video di libri appunto di animali di gatti un sacco di gatti cucina video motivazionali cioè proprio perfetto tutto quello che voglio vedere e nulla io termine di blaterare questo video sicuramente non è dei migliori scusatemi ancora per la poca cura della gestione luce sfondo eccetera ma questo potevo fare spero comunque che vi siate intrattenuti in questi quasi 25 minuti insieme e cercherò di registrare altro in breve tempo così non lasciarvi proprio abbandonati ma intanto comunque grazie grazie per il vostro supporto grazie alle persone che comunque mi hanno scritto se sono accertata che stessi bene vi mando veramente un abbraccio gigantesco siete meravigliosi stupendi vi amore ci vediamo presto ciao grazie 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 grazie